Esempio di San Luigi Gonzaga. Il ritratto di questa virtù voi l'avete dinanzi agli occhi, quasi in vivo originale, in San Luigi Gonzaga. Non è forse vero che il volto di questo angelico giovane è il volto medesimo della purità. Già mi sembra vederlo questo angioletto in carne mostrare a voi il suo bel volto di paradiso, oltremondo ilare e sereno, estendendo le pure virginali sue mani, chiamarvi con dolce invito a seguirlo. Se io, par che dica, tra le delizie più lusinghiere delle corti più libere e tra i pericoli più manifesti, ho saputo conservare intatto il mio giglio. Perché non potrete voi mantenervi puri, protetti quasi all'ombra di una semplice condizione privata? Ero pur io, cinto della stessa carne di cui voi siete. Scorreva pur ferbido il sangue nelle mie vene, e al dolce aprile dei mie giorni fiorivano fresche e vivacei le mie membra. Se io, conservando sempre una castità virginale, ho sorpassato la stessa natura, perché voi non conserverete quella castità che esige il vostro stato particolare? E se gli occhi miei si astennero sempre volenterosi di mirare anche solo di passaggio terreno e bellezze, quantunque caste e innocenti, come non soffriranno i vostri sguardi un freno discreto che li sospenda o li ritiri dall'affissarsi con troppo libera malizia? E se il mio gracile corpo accorse sì di buon grado uno strazio sì rigido di penitenza custoditrice, come non sosterrà il vostro corpo di buona voglia le privazioni delle crapule ingorde e delle stuanti ubriachezze? Mirate questo sì numeroso stuolo che mi circonda di giovinetti innocenti e di vergini donzelle. Questi, adunque, e queste poterono sì da vicino e possono tuttora calcare le ardue vestigia dei miei passi, e voi non potrete almeno da lungi seguire l'odoroso profumo dei miei esempi che si spande e si diffonde, si largo ovunque. Così vi parlo, fratelli, questo prototipo di innocenza, e voi che rispondete ai suoi inviti? Dirà forse alcuno, sarà pur vero che San Luigi e molti altri che a lui si accostano con la imitazione avranno potuto eseguire anche i più ardi consigli quanto a me è impossibile osservare anche il semplice precetto. La proposizione troppo assoluta. Come tale meritò già d'essere riprovata dalla Chiesa con manifesta censura di eresia, bisogna limitarla. Se mi si dica meglio col savio che nessuno può essere continente se Dio non lo dona, io la concedo. Ma soggiungo le autorevoli parole del Tridentino, che l'uomo è tenuto a fare quello che può e a domandare quello che non può. Neppure i Santi l'hanno potuto con le loro forze, ma con il conforto della grazia, la quale Dio non la nega chiunque rettamente la chiede nell'orazione. Egli è anzi prontissimo a darla, per renderci così leggero, quel peso e suave quel gioco della divina legge, che alle sole forze della nostra inferma natura poteva forse parere strano, anzi importabile.